È stato presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli il servizio Scuolabus, fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Lo scorso 2 novembre si sono chiuse le procedure di adesione al servizio, che verrà gestito a cura dell'Agropoli Cilento Servizi, dalle quali è scaturita la partecipazione di circa 70 famiglie. Il servizio, con partenza lunedì 14 novembre, sarà attivo per gli studenti delle scuole primarie e della secondaria di primo grado. Le tariffe prevedono la gratuità fino ad un ISEE di 5.000 euro, mentre le tariffe per le altre facce di reddito sono comunque calmierate e in linea con gli altri comuni limitrofi. Si riaccendono i motori del servizio Scuolabus, ha affermato il sindaco Roberto Mutalipassi. La prima corsa, con due mezzi sui quali oltre agli autistici saranno gli accompagnatori, è prevista il 14 novembre. Nel frattempo offriremo ancora il tempo agli indecisi, riaprendo da questa mattina i termini per aderire fino a mercoledì 9 novembre. Un'attivazione ha evidenziato l'assessore alla visione territoriale, sviluppo economico e PNRR, Emidio Cianciola, che vuole essere un atto di civiltà ed una spinta verso il diritto allo studio per tutti. Senza contare i benefici sulla viabilità per il minor numero di auto circolanti in orari di punta e sull'ambiente. Il consigliere con delega all'istruzione, Franco Crispino, ha sottolineato «Io sono la memoria storica, in quanto nel primo mandato al Fieri il servizio venne sospeso perché le adesioni erano davvero minime. Siamo certi che questa volta sarà diverso». A presentare il progetto è stato Francesco Barone, vicepresidente del CDA di Agropoli Cilento Servizi. «Ringraziamo l'amministrazione», ha dichiarato Barone, «per la fiducia in noi riposta nell'affidarci anche questo servizio». Abbiamo ricevuto durante la fase di preadesione 150 richieste, mentre nella fase di partecipazione vera e propria le richieste sono scese a 70. Per scelta non abbiamo divulgato inizialmente un percorso, proprio per farlo una volta acquisite le domande e comprese le provenienze delle diverse aree cittadine. Questo però da un lato ha trattenuto un po' gli indecisi, ai quali voglio rassicurare che il servizio verrà effettuato quanto più prossimo al luogo in cui si abita. Anche il presidente dell'azienda consortile, Domenico Gorga, ha voluto ringraziare l'amministrazione per la fiducia accordata, esprimendo con certezza che sarà un servizio apprezzato dalle famiglie.